Sarà Achille Lauro il grande ospite del Capodanno di Agrigento in Piazza Marconi, ora è ufficiale. La notte del 31 dicembre, a partire dalle 23, il famoso cantante salirà sul palco per animare il concerto dell'ultimo dell'anno. Con lui si alterneranno Lello Analfino e Riccardo Gatz, mentre a fare gli onori di casa e a condurre la serata sarà Silvio Schembri. La sola ipotesi che potesse essere Lauro il protagonista del Capodanno Agrigentino ha letteralmente mandato in estasi tanti fan siciliani. Ora però c'è la certezza, sarà il cantante veronese ad animare con i suoi successi l'ultima serata dell'anno. Ci aspettiamo grandi ricadute economiche sul territorio. I fan stanno già iniziando a prenotare Bed & Breakfast Hotel, ha raccontato alla Repubblica il sindaco di Agrigento Francesco Miciche, spiegando l'entusiasmo che ha generato la notizia. La colonna sonora della serata sarà formata dalle grandi hit come Domenica, Me Ne Frego, Solo Noi, Roma e Rolls Royce. L'obiettivo sarà come sempre stupire per un artista che dell'anticonformismo ha fatto la stella polare della sua scesa nel panorama musicale internazionale. Non mancherà la stravaganza del lucco, pronta a essere declinata sul palco attraverso le coreografie e i versi delle sue canzoni. È tutto pronto quindi per un capodanno stellare nella città dei Templi, con l'amministrazione comunale che dopo anni di restrizione a causa della pandemia ha deciso di fare le cose in grande.